Credo che proprio in quello che è il lavoro che le regioni stanno portando avanti per consolidare delle politiche di inclusione innanzitutto, i fondi europei, i fondi di coesione, siano fondamentali per avviare delle progettualità che poi le regioni hanno il compito di trasformare in politiche durature. Noi in questi anni stiamo cercando di far sì che i diversi fondi, fondi strutturali, il Fondo Sociale Europeo, i fondi legati all'immigrazione, e quindi in questo ultimo periodo il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, siano fra loro collegati e quindi si investa su progetti che vedano insieme le risorse europee che quindi sono utilizzate bene e debbono a questo punto essere delle risorse che ci permettono di individuare delle politiche a breve ma soprattutto a medio e lungo termine. Grazie a tutti!